Il trapianto di fegato rappresenta la terapia più radicale dell'epatocarcinoma. In questo caso non solo trattiamo il tumore, ma trattiamo anche la malattia di base. Non sempre però è possibile effettuare un trapianto di fegato. I limiti sono legati all'estensione del tumore, ma anche alle condizioni generali del paziente, in particolare alla concomitanza di altre patologie croniche, in particolare le malattie cardiovascolari, la insufficienza respiratoria, l'insufficienza renale e così via. Quando è possibile effettuare il trapianto perché non ci sono comorbidità, dobbiamo pensare all'estensione del tumore. I limiti dell'estensione del tumore sono un nodulo unico, fino a 5 cm di diametro, oppure tre noduli tumorali, massimo di 3 cm ciascuno. Al di fuori di questi criteri, che noi denominiamo i criteri di Milano, si possono effettuare delle deroghe e quindi effettuare il trapianto, ma derogare a questi limiti significa esporsi al rischio di una recidiva del tumore nel nuovo fegato. Questo è il motivo per cui bisogna essere molto rigorosi nel porre le indicazioni e nell'identificare le eventuali controindicazioni al trapianto di fegato, che come abbiamo detto è la presenza di patologie importanti di altri organi o apparati dell'organismo.